Come ti chiami, bellezza? Sono Donald Trump. Molto piacere. Roy Cohn. Di cosa ti occupi, Donald? L'affitto. Chi è il sanguisuga? Fattele! La gente sceglie me perché io vinco. La prima regola è la più semplice. Attacca, attacca, attacca. Sarà l'edificio più bello del paese, del mondo. Sarà spettacolare. È una nazione di uomini, non le leggi. Non preoccuparti di quello che la gente pensa di te. Pensa di poter battere il governo? Il conto. Ci ha pensato il signor Trump. Ci sono due tipi di persone. I vincenti e i perdenti. E tu vinci, Donald? Dal mare al cielo. C'è chi dice che si è iniziata l'era di Trump? Tutti vogliono un pezzo di Trump. Ricorda che ti ho creato io. Non mi serve nessuno. Non provo più attrazione per te. Stai diventando caldo. Mi fai schifo. Non c'è giusto o sbagliato. Non c'è moralità. Non c'è verità. E se oggi perdesse tutto, cosa farebbe? Beh, potrei fare il presidente. Non lo so. Devi essere disposto a fare qualunque cosa, a chiunque, per vincere. Viro benedica America! Fare soldi è arte. È vero. È arte. È arte. E tu sei famoso? Iscriviti al canale! Magno di Grammar Reggi Mauri Verona La regione del stage